Buongiorno, ci troviamo a Volpiano, nel nuovo campo in erba sintetica realizzato nel corso del 2019-2020 che per motivi di Covid inauguriamo, anche se è stato già a sede del campionato nazionale delle storie primavera che era la stadio di casa del Torino Calcio ed è un campo che l'amministrazione ha voluto in vista del centenario della società del Volpiano che è stato a 100 anni nel campionato 2019-2020 che come tutti sappiamo però è stato colpito con tutto lo sport nazionale dall'epidemia del Covid quindi questa struttura è sopra un altro ex campo in erba che non aveva l'illuminazione insieme a un campo che è di fronte a me che è per gli allenamenti che è tra il campo in erba di Antonio Goia e questo campo che invece è dedicato ad Antonio Bertolotti alla fine di questo mese anche il campo in mezzo per gli allenamenti, il campo a 7, sempre in erba sintetica verranno tutti nominati a un altro dei nomi vicino a Sodalizio Volpianese il Comune ha realizzato questa opera, diciamo così, senza debito come si dice, con un progetto finanziario quindi sono stati utilizzati i fondi che normalmente vengono utilizzati per la manutenzione di questa area sportiva che è molto importante perché a questa ci misce il campo da rugby e lo stadio dell'atletica che è un po' più in là, con tutti gli attivi spogliatoi ed è stata presa la cifra che ogni anno veniva messa in manutenzione detratta della cifra che le società versavano per l'utilizzo messo a base come canone e dato alla società Italgreen che ha realizzato questi campi e un'altra parte viene data poi alla società che farà le manutenzioni per la parte non sintetica mentre per la parte insintetica ci sarà un accordo tra la società di calcio e la società che li realizza e che li avrà diritto di superficie per 12 anni quindi riuscire a fare un investimento con le limitazioni purtroppo che in comuni sui bilanci e sembra incredibile ma i comuni che magari hanno dei mutui quando questi mutui vanno a scadenza rilasciano delle possibilità di spesa i comuni di Volcano che non ha molta parte in mutui che scadono deve fare degli investimenti con della finanza di progetto che sono quelli che ho appena spiegato comunque la cosa importante che è realizzato è che nonostante il Covid oggi siamo qua a inaugurarli anche se sono già stati utilizzati ma la cosa più importante è che Volcano che ha sempre avuto una squadra di calcio portando a me della città e che ha un fortissimo settore giovanile abbia le strutture che per il futuro gli permettono di raggiungere ulteriori e importanti braviardi grazie 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 grazie